Saluto, buonasera, io sono Federico Gobbo, sono professore di esperanto qui ad Amsterdam e a Torino e voglio testimoniare il fatto che l'esperanto è una lingua viva perché tra le altre cose anche io lo insegno se non fosse viva non sarebbe nulla di interessante da insegnare e perché è importante esperanto per me? Beh, parte la mia ricerca scientifica una parte forse più interessante e importante, questo è il mio ufficio qui ad Amsterdam dove ci sono un po' di cose in esperanto, un bel po' di libri e cose del genere e oggi è la giornata, il giorno di Samenhof e dell'esperanto e tradizionalmente è anche il giorno della letteratura in esperanto per cui un buon esperantista oggi inizia a leggere un nuovo libro e il nuovo libro che inizierò a leggere oggi in realtà è un libro sull'esperanto ma non in esperanto, devo essere sincero è questo di Leo Wiener, Universal Sprachen und Esperanto Leo Wiener è il papà di Norbert Wiener, fondatore della cibernetica ed era un compagno di classe di Samenhof e quindi una storia molto interessante e recentemente pubblicata dalla casa editrice Iltis che è una casa editrice piccola specializzata sull'interlinguistica e insomma questo è quanto quindi buon Samenhof Antagon al CIWI